E' stato molto emozionante ricevere questo premio, tra l'altro con il ministro Picchietto Frattin. Tanto volevo ringraziare tutti i collaboratori dell'azienda e senza di loro non sarebbe stato possibile raggiungere questo grande obiettivo. Grazie, grazie Cristian, davvero complimenti a tutto il team e del gruppo lo sano e congratulazioni di quest'anno a tante emozioni. Grazie 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 Grazie